Oggi siamo alla pietra di Bismantova in versione alpinistica per andare a fare la via Oppio, una via di 130 metri circa per quattro tiri che si snora per questo spigolo. Alla prossima! Alla prossima! Via Oppio, secondo tiro, fatto. Ne mancano due. Dai, che qua sei più in defica. Respira! Sosta, terzo tiro. Scomoda. Tantissimo scomoda. E dopo bisogna passare qui in mezzo per attaccare il quarto tiro. Questa è la situazione. La corda ha fatto la matassa e io sono allungiato qui su da 30. quando mancano... Quando mancano... boh, sei metri all'uscita. Aspettiamo. Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! Siamo arrivati! Siamo arrivati in cima! Siamo arrivati in cima! Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! Siamo arrivati in cima! Un bel giro! Questa è la nostra parete! Questa è la nostra parete! Grazie a tutti.